Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Faccio l'imposte di me, poi lo vanno a me, poi lo vanno a te. Faccio l'imposte, oggi stanno solo con te, così qui mi muorendo, io non lo so, non lo so. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti